mi pare che oggi la radio si sia sicilianizzando perché dopo il presidente di Stefano, dopo Elisa Demme, dopo il presidente greco abbiamo Simona Tarantino. Ciao Simona, come stai? Ciao Domenico, bene, ciao a tutti, grazie. Simona la conosciamo un po' tutti perché è una che sulla politica forense ne sa tutto, adesso anche il direttore generale della scuola di politica forense della fondazione Tommaso Bucciarelli Aiga, appena cambiato il nuovo CDA dopo la giunta nazionale Aiga, quindi siamo di nuovo qui con quest'altra avventura, oltre il mio impegno nel foro di Palermo come componente del Consiglio Distrittuale di Disciplina. Beh, è una bella iniziativa, io lo dico subito perché io sono, come tu sai, un appassionato di politica forense e so che gli avvocati non ne capiscono granché, devono imparare, devono studiare perché non si può soltanto fare ogni tanto una battuta o un intervento a spot se non si conosce poi, diciamo, la materia, se non si conosce anche un po' un pizzico di storia di come siamo arrivati a un congresso, di come siamo arrivati a determinate scelte statutari, ordinamentali. Oggi si parla di ordinamento in questo congresso e vedo che molti annaspano. Esatto, di fatti quello che noi di Aiga, ma in generale anch'io ho sempre cercato di fare al servizio dei colleghi, è far comprendere che se non si conosce appunto la storia, ma anche le diverse territorialità, non si comprendono determinate scelte politiche, ma anche soprattutto determinate magari riforme che non sono molto gradite. I percorsi non sono facili, si deve studiare, si devono comprendere le dinamiche e solo così si può avere un'idea innanzitutto di massima e poi nei singoli territori comprendere il perché avvengono determinati movimenti o determinati aspetti. Tu hai parlato di territorialità e io penso che, diciamo, quando ho iniziato a intercettare questo interesse per la politica forense avevo due riferimenti, uno era l'Unione del Trivenito che era all'avanguardia anche da un punto di vista, diciamo, di studio. Probabilmente tante cose le studiavamo lì su quel sito che fu anche molto, diciamo, anticipo, innovativo, bravo, mi hai aiutato, ma anche l'Unione dei Forensicidiani che anche lì, diciamo, si lavorava anche molto in simbiosi fra le due unioni. Ricordo bene, no? Sì, sì, intanto mi fa piacere che hai parlato del Trivenito e il mio pensiero e anche il tuo sicuramente andrà al grande Antonio Rosa che è sempre nei nostri pensieri e loro sono stati innovativi e continuano ad esserlo. Beh, poi adesso hanno fatto un'altra scelta eccezionale perché hanno nominato il presidente Andrea Pasqualini che è sicuramente uno degli elementi migliori dell'avvocato italiano. Sì, assolutamente. L'Unione dei Forensicidiani, storicamente la Sicilia, oltre all'associazionismo, è sempre stata in prima linea in politica forense, quindi noi abbiamo questa passione incredibile, quindi difficilmente cambieremo strada. Beh, adesso poi io ho un altro amico che è il presidente, che è Sara Pizzino, per cui gioco veramente in casa. Giochi in casa con noi, assolutamente. Simona, che ti sta piacendo, che cosa avresti voluto eventualmente in più da questo congresso? Allora, quello che io spero che si possa modificare in futuro è la presentazione delle mozioni in un tè. Ho fatto questa domanda a tutti quelli che sono venuti qui. Allora, tenete conto che la presentazione della mozione, fino all'ultimo, ovviamente non mette noi delegati nella condizione di studiare, esaminare con una certa e dovuta attenzione sia per il lavoro di coloro che hanno elaborato queste e che va onorato, che hanno elaborato le mozioni, e sia anche per comprenderne la portata pratica, perché le mozioni sono strutturate, alcune anche molto tecniche e vanno anche esaminate nel loro complesso, ogni parte articolata e potrebbero anche esserci delle incompatibilità con mozioni presentate da altri gruppi che si sostengono e che andrebbero a essere incompatibili. Quindi è giusto avere un termine che non è sicuramente quello del giorno prima, non è un lavoro che si può fare in fretta e furia. Se si deve fare un servizio ai colleghi, giusto. Tu vieni dal mondo dell'associazionismo, sei una colonna portante, sei stata di Aiga, hai vissuto tutte le fasi, diciamo, da quando ti sei iscritta all'album, possiamo dire. Se non anche prima, non trovi che forse ci vorrebbe un precongresso finalizzato a questo delle associazioni, perché tante volte si scrivono cose uguali, ma semmai con qualche distinzione che potrebbe portare, per esempio, anziché a 74, mi pare, a 10 mozioni. Sì, erano 109 e non sono state accorpate. Allora, noi di Aiga obiettivamente abbiamo da poco fatto il congresso di Bari e quindi le nostre emozioni vengono comunque da là, quindi noi siamo abituati a studiare e a proiettarci già per il congresso e questo, diciamo, è proprio una specialità della nostra associazione. Ritengo che lo debbano fare un po' tutti, perché l'associazionismo dà molto e permette di avere una visione d'insieme migliore. Ultima battuta. Complessa. Associazionismo. Un po' in crisi, un po' troppi convegni, un po' troppi politica. Allora, in crisi come sono in crisi tantissimi aspetti della nostra realtà storica. Tutti i cosiddetti organi di intermediazione. Tutti i quanti che sono... Il boom delle associazioni ovviamente porta poi a una esagerazione e a un'offerta per cui bisogna indirizzarsi su ciò che piace, su ciò che si è portati a fare e anche individuare su qualche, diciamo, aspetto più specialistico, ecco, anche qualche associazione che magari è meno generalizzata e più specialistica. Però io non posso che sponsorizzare Aiga, mi dispiace. Quindi Aiga vi aspetta. Grazie Simona, buon lavoro. Grazie a te Domenico e grazie a tutti. Ciao.